Bene, eccoci qua, di nuovo, buongiorno, riprendiamo il nostro cammino a tappe sui racconti della risurrezione. Siamo ancora nel periodo di Pasqua, la Quaresima reale, quella che stiamo vivendo, non è ancora finita, siamo ancora in quarantena, la speranza della risurrezione, del tornare alla vita normale, si comincia a delineare, siamo nella fase 2, siamo nella fase 2 e quindi ecco, possiamo in qualche maniera contestualizzare meglio anche esistenzialmente questo cammino che troviamo nei Vangeli di scoperta della vittoria del bene sul male, della vita sulla morte, della risurrezione di Cristo. Abbiamo già fatto alcune lezioni, andiamo a vedere il documento che noi stiamo adoperando, che è questo, che è questo, eccolo qua, ci siamo, mettiamo la mia faccia qua su, allora, noi abbiamo già fatto due lezioni, la prima lezione, ecco, ho intitolato questo percorso, i Vangeli della risurrezione, perché vogliamo andare a vedere ognuno dei quattro Vangeli come racconta, come presenta, no? Queste esperienze, l'esperienza che i discepoli hanno fatto dopo la crocifissita Barbara, esecuzione, tortura, esecuzione, morte del loro maestro di Giusto di Nazareth, come sono pervenuti e quali difficoltà hanno incontrato nel pervenire alla fede nella risurrezione. Abbiamo visto il Vangelo di Marco, che io ho intitolato una sorpresa sconvolgente ed incredibile, abbiamo visto che il Vangelo di Marco ha sottolineato pesantemente la difficoltà del credere, la difficoltà di arrivare a credere nella risurrezione, però dicevamo, sottolinea che chi crede, chi supera questa difficoltà, sarà reso in grado di fare miracoli, perché il Signore agirà, il Signore risorto agirà con lui, no? Poi siamo andati a vedere il Vangelo di Matteo, un Vangelo che io ho intitolato, questa lettura, una sorpresa sconvolgente e controversa, perché nel Vangelo di Matteo i discepoli si coinvolgono subito nell'annuncio della risurrezione, ma controversa perché questo annuncio viene in una terra, nella Palestina, dove la vicenda di Gesù era conosciuta anche da chi cristiano non era diventato, a chi discepolo non era diventato, a chi lo aveva, chi aveva ritenuto opportuno gridare crucifiggio lo crucifiggio, no? Ecco la controversia sulla tomba vuota, la controversia sulla figura stessa di Gesù. Bene, oggi ci accingiamo a un nuovo appuntamento con il Vangelo di Luca. Bene, Luca è un greco, non è mai stato in Palestina, non ha conosciuto Gesù, è un cristiano di seconda generazione, è un discepolo di Paolo, lo ritroviamo nelle lettere di Paolo accanto a Paolo. È un medico, uno che conosce molto bene il greco, gli esperti di greco, confrontando la lingua che usano gli altri evangelisti e quella che usa Luca, ci si accorge subito chi è l'esperto, no? Che il greco di Luca è un greco molto pulito, molto bello, un greco madrelingua, potremmo dire, mentre gli altri non lo erano. Bene, ho intitolato, scrive intorno agli anni 70-80, grosso modo contemporaneo, un po' posteriore a quello di Matteo, conosce il Vangelo di Marco, perché come Matteo Luca riprenderà tutto il Vangelo di Marco, ma utilizzerà altre fonti. Anche qui vediamo se il Vangelo di Marco erano 16 capitoli, in Luca sono 24 capitoli e quindi diciamo più lungo, ha altro materiale. Una cosa importante in Luca, Luca non scrive solo il Vangelo, scrive un'opera, un'opera di grande respiro, divisa in due parti. La prima parte corrisponde al Vangelo. La prima parte si conclude esattamente con il capitolo che noi adesso andiamo a leggere. Ma a questa prima parte ne fa seguire un'altra, che sono gli atti degli apostoli. E tutto in un disegno, in un disegno. La prima parte, il Vangelo, parte da Nazareth, dove Gesù inizia la sua predicazione, si conclude a Gerusalemme, con la vicenda della Concefissione e della Resurrezione. La seconda parte parte da Gerusalemme, con i discepoli che una volta convinti, che una volta pervenuti, vedremo, con difficoltà alla fede nella Resurrezione, partono e annunciano, fondano il nuovo movimento e gli atti di apporto li racconta i decenni seguenti, almeno tre decenni seguenti e accompagna questo cammino fino a Roma. Quindi l'opera di Luca parte da Nazareth, fa perno a Gerusalemme, arriva a Roma e quindi rende ragione del movimento di Gesù, risorto dopo la sua Resurrezione e che diventa un movimento che si estende a tutti i popoli e arriva simbolicamente a Roma. Roma era concepita come l'escemi confine della Terra, visti dalla Palestina, come un po' bene. I racconti che leggeremo sono inquadrati in questo contesto. Perché ho intitolato una scoperta lenta e meditata? Perché vedremo che qui Luca sottolinea che si arriva alla fede nella Resurrezione con un cammino abbastanza lento e progressivo. L'avvio, ok, quello che ho messo prima sarà qualcosa che ci servirà, a breve, ma è il capitolo precedente, no? Andiamo subito all'inizio di quest'ultimo capitolo dedicato alla Resurrezione e ci troviamo sempre, quindi riprende da Marco, vedremo come riprende il racconto di Marco, le donne che vanno al sepolcro per completare i riti funebri sul cadavere e si trovano davanti all'annuncio. Vediamo come Luca riprende e modifica questo stesso annuncio. Bene, partiamo. Il primo giorno della settimana, ecco, al mattino presto, esse si recarono al sepolcro portando con se gli aromi che avevano preparato. Quindi è in qualche maniera, o è una piccola particolare, riprende Marco, ma in Marco la mattina vanno a comprare gli aromi che avevano preparato. In realtà, se noi andiamo al capitolo precedente, una delle cose che sarebbe proprio negli ultimissimi versetti, aveva scritto, no? Quando si parlava della sepoltura di Gesù, ecco, leggiamo, ed ecco, vi era un uomo di nome Giuseppe, membro del Sinedio, buono e giusto, quindi c'era un uomo che faceva parte del tribunale che aveva condannato Gesù, ma lui era dalla parte di Gesù, no? Egli non aveva aderito alla decisione all'operato degli altri. Era di Arimatea, una città della Giudea, e aspettava il regno di Dio. Quindi era uno delle autorità religiose, ma che era aperto all'attesa del Messia, al nuovo, no? Non era chiuso come gli altri. Egli si presentò a Pilato e chiese il corpo di Gesù. Lo depose dalla croce, lo avvolse con un lenzuolo, sottolineo questo perché vedremo sta storia di questo lenzuolo, che finora non era mai venuta, no? Però, diciamo che un po' anche gli altri Vangeli, quando parlano della sepoltura di Gesù, parlano di un lenzuolo. Poi però non lo riprendono più. Vedremo Luca cosa fa. E lo mise in un sepolcro scavato nella roccia nel quale nessuno era stato sepolto. Era il giorno della parasceve e già splendevano le luci del sabato. Quindi era il giorno del venerdì, era il venerdì, che precedeva il sabato che era la Pasqua. Poi dopo questo, dice, le donne che erano venute con Gesù dalla Galilea, ecco, le donne del suo gruppo, mentre gli uomini erano scappati e si erano nascosti, loro, vi ho spiegato le volte scorse perché loro si potevano muovere con libertà, in un certo senso, perché le donne contavano poco, quindi nessuno le avrebbe infastidite, seguivano Giuseppe, Giuseppe da Rima Dea. E se osservarono il sepolcro e come era stato posto il corpo di Gesù, poi tornarono indietro, prepararono, quindi al venerdì pomeriggio, aromi e oli profumati. Il giorno di sabato osservarono il riposo come era previsto e quindi poi, ecco qua, che al mattina presto si recono al sepolcro portando con sé gli aromi che avevano preparato. Trovarono che la piedra era stata rimossa dal sepolcro e entrate e non trovarono il corpo del Signore Gesù. Quindi è un po' la descrizione di Marco. Vedete che non c'è la teatralità di Matteo, che mostra come la pietra viene rotolata. Siamo anche qui in ambiente straniero, non siamo in Palestina, siamo in grande mondo greco-romano, dove il discorso della tomba vuota come segno è stato molto meno importante rispetto alla Palestina che era qualcosa che stava lì. Quindi trovano la tomba aperta e non c'è il corpo del Signore. Mentre si mandavano che senza avesse tutto questo, però non vedono niente, no? Ecco, non vedono niente e cominciano a chiedersi ma che cos'è, chi è, cosa succede, no? Ecco due uomini presentarsi a loro in abito sfolgorante. Guardate un po' la storia di questa. In Marco abbiamo visto che era un uomo, in Marco abbiamo visto, videro un giovane vestito da una veste bianca, il quale annuncia che Gesù è risorto, non è lì e loro devono andare ad annunciarlo agli altri. Avevamo visto che in Matteo questo giovane era diventato un angelo, no? Era l'angelo che aveva aperto la tomba e che annuncia alle donne e vediamo che in Luca sono due uomini per sentarsi a loro in abito sfolgorante. C'è sempre l'abito sfolgorante che quindi in qualche maniera ci hanno... sono apparentemente degli angeli, no? Però sono due uomini. Oh, perché due uomini? Lo vedremo dopo. Le donne impaurite tenevano il volto chinato a terra, chinato a terra perché erano andi a sconosciuti, poi il sistema orientale lo vediamo un po' oggi nel mondo arabo, no? La donna è sempre sottomessa, no? Ma quelli dissero loro, perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto, non dovete cercarlo qui. Ricordatevi come vi parlò. Ecco qui c'è qualcosa, fino a qui uomini invece di uno e vedremo perché. Qui comincia qualcosa di diverso. Ricordatevi come vi parlò quando era ancora in Galilea. Si parla della Galilea, ma non come andà, dite ai miei discepoli che vadano in Galilea, là mi vedranno, no? Qui non tornano in Galilea. Io vi spiegavo che quella indicazione di tornare in Galilea, che troviamo sia in Marco che in Matteo, era perché per dire ricomincerà il movimento. Luca presenta questo in maniera diversa perché nella sua stessa opera, dopo questo capitolo, presenterà l'inizio, il ricominciamento, il nuovo inizio del movimento che arriverà fino a Roma. Quindi non ha bisogno, lui lo descrive, no? Quindi non ha bisogno di evocarlo mandando in Galilea. Però si dice quando era ancora in Galilea, cioè quando portava avanti il suo predicatore, ricordatevi come vi parlò. E diceva bisogna che il figlio dell'uomo sia consegnato in mano ai peccatori, sia crocifisso e risolga il terzo giorno. Cioè questi due uomini dicono alle donne, guardate, non è qui, ma non vi meravigliate, non è qui perché è risorto, ma ricordatevi ciò che aveva detto. Lo aveva detto lui. Lui aveva detto che avrebbe dovuto soffrire, essere crocifisso e risorgere il terzo giorno. Quindi, ecco, vedete come il cammino verso la fede nel credere, nella risurrezione, qui parte da una meditazione, parte da un ricordo, da ciò che Gesù aveva detto. Quindi non è immediato, lo vedono e basta, no? Ed esse si ricordarono delle sue parole, ed esse si ricordarono delle sue parole. Vedete? Come dice? Cioè si ricordarono delle sue parole. Quindi non vedono niente di particolare. Vediamo cosa sono questi due uomini. Vedono la tomba vuota, il cadavere non c'è e si ricordano. Cioè, progressivamente arrivano a credere alla risurrezione perché ricordano le parole che Gesù aveva detto. E tornate da Scegliere, annunciarono tutto questo agli undici, a tutti gli altri. Annunciarono agli altri, ma non l'avevano visto. Avevano visto i due uomini. Vediamo questi due uomini. Perché due uomini invece di uno? Perché Luca qui vuole dire, vuole mettere una, diciamo, una pulce nell'orecchio per dire questi due non sono gli angeli, sì sono angeli, ma angelo in greco, lui è un greco, la parola angelo in greco non era una figura mistica, una figura religiosa. La parola angelo voleva dire messaggero, colui che porta un messaggio. E questi sono due uomini che portano un messaggio. E perché due uomini? Ma guardate, nel Vangelo di Luca, Gesù, lungo i tre anni, ad un certo punto, quando era nato il suo movimento, manda i suoi discepoli in giro per le città della Galilea ad annunciare la sua parola e a preparare il suo arrivo. Guardate cosa dice qui. Dopo questi fatti, siamo al capitolo decimo, quindi la metà dei capitoli precedenti. Dopo questi fatti, il Signore designò altri 72, oltre ai 12, e li inviò a due a due davanti a sé, in ogni città e luogo dove stava per regarsi, a due a due. Quindi andranno a due a due, no? Vedremo che nelle atti degli apostoli, i missionari, gli apostoli, andranno sempre in coppia. E qui vedremo che l'esperienza fondamentale che vedremo qui, e qui Gesù si mostra per la prima volta come risorto a due che camminano insieme. Cioè, questo essere due è un po' nel Vangelo per Luca, i missionari, i primi apostoli, andavano per il mondo sempre in coppia e quindi portavano, annunciavano il Vangelo. Quindi chi sono questi due uomini? Ma sono come tutti i missionari cristiani, tutti gli apostoli, i discepoli che andavano in giro a fondare comunità cristiane, a portare l'annuncio. Quindi ecco qua che già fin dall'inizio, fin dal primo annuncio, quando si rendono conto del Cristo risorto, ci sono questi due messaggeri, no? Bene, le donne sono quindi arrivate tramite l'annuncio di questi due messaggeri, tramite il ricordo delle parole di Gesù, la meditazione, sono arrivate a convincersi, è la tomba vuota, che il Cristo risorto e vanno dagli undici e da tutti gli altri. Qui prima non si era detto chi sono, erano Maria Maddalena, Giovanna e Maria, madre di Giacomo. Quindi vedete, anche qui sono tre donne un po' come in... è sempre Maria Maddalena la prima, no? Anche le altre, o non sono di più qui, anche le altre che erano con loro raccontavano queste cose agli apostoli. Quindi era un gruppo nutrito di donne, ma tre sono quelle principali di cui si dà anche il nome, no? Come reagiscono gli apostoli? Qui nessuno ha visto Gesù ancora, eh? Quindi sono pervenuti alla fede che Gesù era risorto per l'annuncio di due messaggeri, per il ricordo di ciò che Gesù aveva detto e per la tomba vuota. Ma quindi arrivano gli undici. Come reagiscono gli undici? Quelle parole parvero a loro come un vaneggiamento e non credevano ad esse. Ecco qua che troviamo la stessa reazione in Marco. Cioè, quelle parole, cioè loro erano pervenute, non l'avevano visto, ma erano pervenuti alla fede e alla resurrezione, ma quelle parole parvero a loro come un vaneggiamento. Voi vaneggiate, no? E non crederono ad esse. Però una pulce nell'orecchio l'aveva messa, cominciavano anche loro. Allora, Pietro tuttavia si alzò, corse al sepolcro e chinato, si vide soltanto i teli e tornò indietro pieno di stupore per la cosa. Cioè, però, Pietro e Inco, quindi non ci credono. Dicono vaneggiamento di donne, io ho già detto che le donne contavano poco, no? Nel mondo ebraico, ma anche nel mondo greco fondamentalmente. Quindi un vaneggiamento di donne non ci credono. Però una pulce nell'orecchio è stata messa. Pietro va, vede che il sepolcro è vuoto e tornò pieno di stupore per l'accaduto. Quindi qualcosa va, no? Oh, vide soltanto i teli. Questo c'è una cosa estremamente interessante. Ecco perché vi ho sottolineato, no? In tutti e quattro i Vangeli, quando Gesù viene sepolto, si dice che chi seppellisce Gesù, questo notabile ebreo Giuseppe di Arimatea, che pure facendo parte dell'elite, era comunque segretamente dalla parte di Gesù, e lui compra un telo, no? Però poi dopo negli altri Vangeli questo telo non ha. Lo ritroviamo qui. Ci sono dei teli, la tomba è vuota, ci sono i teli. Poi vedremo che storia avrà questi teli. Li ritroveremo in Giovanni e poi faremo dei discorsi su questi teli, no? Quindi, a questo punto siamo, l'annuncio Gesù non è stato visto da nessuno, due messaggeri hanno detto che la tomba è vuota perché lui è risorto, ma ve l'aveva detto, ricordatevi, e loro ricordano, meditano, e arrivano a convingersi, vanno dai discepoli, non ci credono, Pietro comunque vuole constatare se effettivamente la tomba è vuota, vede che la tomba è vuota, vede questi teli, con i quali era stato avvolto il corpo, e non vede il Signore. E quindi è pieno di stupore, no? Quindi non sappiamo se a questo punto Pietro crede o non crede. Poi la scena cambia. E qui è un fatto totalmente nuovo, raccontato solo da Luca. I discepoli, qui non parliamo solo di dodici, parliamo del gruppo di discepoli. Vedete, prima vi ho detto, no? Che a un certo punto ne manda 72 in giro, no? Ne aveva mandati. Quindi parla due di loro, quindi siamo arrivati alla sera di questo giorno, ed ecco, in quello stesso giorno, quindi nello stesso giorno, il primo della settimana, no? Quello dopo il sabato, due di loro, discepoli, erano in cammino per un villaggio di nome Emmaus, distante circa 11 chilometri da Gerusalemme, quindi molto ben determinato, si dice addirittura era distante, e quindi stavano tornando a casa e conversarono tra di loro di tutto quello che era accaduto. Quindi parlavano di quello che era successo negli ultimi giorni, no? Avevano seguito il maestro per tre anni, erano convinti, e c'è parlare poi quella fine che aveva fatto. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro. Ma i loro occhi erano impediti a riconoscere. Loro vedono uno sconosciuto. Noi, Luca ci dice a noi lettori che quello era Gesù, il Gesù risorto, ma niente di strano, per loro era uno sconosciuto, una persona mai vista, che cammina con loro. Ed egli disse loro, no? Che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino? Cioè attacca bottone, noi dobbiamo camminare insieme, facciamo la stessa strada. Di che siete per l'anno? Si fermarono col volto triste, perché stavano andando da Gerusalemme, verso un altro villaggio, quindi anche lui, questo sconosciuto, veniva da Gerusalemme, no? Si fermarono col volto triste. Uno di loro, di nome Cleoba, gli rispose, solo tu sei forestiero a Gerusalemme, cioè tu sei l'unico straniero di Gerusalemme, non sai ciò che è accaduto in questi giorni, lo sanno tutti, no? Com'è che tu non lo sai, no? E questo sconosciuto domandò, che cosa? Gli rispose, ciò che riguarda Gesù, il Nazareno, che fu un profeta, potente in opera e in parole, davanti a Dio, e a tutto il popolo, no? Come i capi dei sacerdoti, le nostre autorità, lo hanno consegnato per farlo condannare a morte, lo hanno crucifisso, no? Noi speravamo che fosse lui che avrebbe liberato Israele, speravamo che lui fosse il Messia, no? Con tutto questo, sono passati tre giorni da quando queste cose sono accadute, cioè, però, ormai sono tre giorni. Veramente, ecco qua, alcune donne, delle nostre, ci hanno sconvolti, perché si sono regate di mattino alla tomba, e non avendo trovato il suo corpo, sono venuti a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, ecco qua, quei due uomini diventano angeli, ma diventano angeli, attenzione nel termine messaggeri, i quali affermano che egli è vivo, no? Sì, è vero, ci sono state delle donne che hanno detto questo, ma, sono piacchiere di donne, no? Alcuni dei nostri sono andati alla tomba, alcuni, qui dice più di uno, vedremo che in Giovanni saranno due, ma qui è solo, in realtà, solo Pietro, ma alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato, come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto, quindi non l'ha visto nessuno ancora, no? Quindi, attenzione, l'annuncio di Gesù risorto c'è già, loro lo hanno sentito, ma non ci hanno creduto, non hanno creduto, nessuno l'ha visto, è ancora un'esperienza che si sta facendo, una maturazione, no? Disse loro, ecco, lo sconosciuto comincia a parlare, stolti e lenti di cuore a credere ciò che hanno detto i profeti, ma voi, ma voi siete, siete duri di testa, no? Voi conoscete i profeti, qui siamo nel mondo ebraico, no? Voi conoscete ciò che hanno detto i profeti, siete lenti a credere ciò che hanno detto i profeti, no? Cioè, l'Antico Testamento, non bisognava che il Cristo, il Messia, patisse queste sofferenze per andare nella sua gloria, ma non avete letto i profeti, ma non avete letto la Bibbia, ma non la conoscete? Non c'era scritto che il Messia avrebbe dovuto soffrire? E cominciando da Mosè, i primi cinque, lì il Pentateuco, e da tutti i profeti, spiegano loro le scritture, ciò che si riferiva a lui. Quindi lui, questo sconosciuto, comincia a parlare, ma guarda, Mosè, eccetera, eccetera, i profeti, Isaia, Geremia, fa un cammino, cioè praticamente, li porta a ripercorrere la strada delle conoscenze, della scrittura che loro dovevano conoscere. Quando furono vicini al villaggio, dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano, cioè loro erano arrivati, e lui fa, ok, ciao, 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 e lui va lontano. Ma essi indistretti, resta con noi, si fa sera, è il giorno ormai al tramonto, cioè, è noto, dove vai, non è come a piedi, di notte ti fermi, e gli entrò per rimanere con loro, quindi lui accettò la proposta e ovviamente si mettono a tavola. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e diede l'oro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò, lo diede l'oro, quattro verbi, prende il pane, recita la benedizione, lo spezza, lo dà. Sono esattamente i quattro verbi, l'azione, che Gesù aveva fatto nell'ultima cena. Sono azioni che si fanno nella cena ebraica, no? Bene o male il rituale. Allora si aprirono loro gli occhi, lo riconobbero. A questo punto, quando vedono Gesù che ripete, quando vedono questo sconosciuto che li aveva in qualche maniera, li aveva fatto, aveva fatto ripercorrere loro tante pagine della Bibbia, sulla vicenda, vede come si comporta questo gesto che è l'Eucaristia, che allo spezzare il pane non lo dà a loro, no? Quello che sarà poi il gesto fondamentale della messa, che noi ripetiamo, allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. A quel punto lo riconobbero, ma egli sparì dalla loro vista. Vi dico, guardate che qui, ecco la risurrezione, come Luca racconta la risurrezione, uno sconosciuto. È lui, ma loro non lo sanno. Lui parla con loro un'intera giornata, camminano, mangiano insieme e solo a un certo punto, ecco, dopo tutto un cammino, si è, i loro occhi si aprono e a quel punto lui non c'è più perché dovevano solo arrivare alla consapevolezza che lui è vivo. Ed essi dissero l'un l'altro, non ardeva forse in noi il nostro cuore, mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le scritture? Cioè, ma non ci ardeva il cuore, non sentivamo qualcosa di particolare. Partirono senza indugio, di notte, ecco, lui avevano invitato e lo sconosciuto a stare con loro perché era notte, loro partono di notte senza indugio e fecero il ritorno a Gerusalemme dove trovarono gli undici e gli altri che erano con loro, quindi trovano di nuovo gli undici e gli altri perché qui con Luca non sono semplicemente gli undici, è un gruppo più nutrito, i quali dicevano davvero il Signore è risorto e ha passo a Simone, ecco, però noi non lo sappiamo, quindi non ci ha detto che abbiamo Simone e Pietro, Pietro era andato alla tomba, quindi in qualche maniera, quindi vedete, il Signore che erano diverse, anche Simone aveva fatto un percorso, aveva ascoltato le donne, non ci aveva creduto, era andato al sepolcro, aveva visto la tomba vuota, i teli, pieno di stupore e quindi in questo percorso, qui si dice che poi era arrivato alla fede, non era arrivato a vederlo, a capire, a sperimentare che era risorto ed essi narrarono, ed essi i due, narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto lo spezzale del padre, quindi vedete, in Luca non si sottolinea tanto il non credere come in Marco, ma si sottolinea la difficoltà di arrivare, ci si arriva a tappe, ci si arriva a dei luci, ricordando le parole che lui aveva detto, analizzando, confrontandole con la scrittura, con diversi, cioè ci si arriva a tappe all'essere, a convingersi, bene, mentre essi parlavano di queste cose, Gesù, ecco qui che adesso tutto il gruppo era stato coinvolto perché le donne e il loro percorso, Simone, i due, e attraverso le loro testimonianze di Simone, degli altri due, loro erano arrivati in qualche maniera, erano pronti per credere, mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona stette in mezzo a loro e disse pace a voi, ecco arrivano, però sconvolti e pieni di paura credevano di vedere un fantasma, anche qui vedete la difficoltà, nonostante che avessero ricevuto già l'annuncio, già qualcuno era arrivato a vederlo, cioè nel senso a sperimentarlo, a sperimentare che era vivo, sono sconvolti e pieni di paura e credono di vedere un fantasma, ma egli disse loro perché si è disturbati, perché sorgono dubbi nel vostro cuore, no? Guardate le mie mani e i miei piedi, sono proprio io, toccatemi, vedremo che questo toccare, toccate le mie mani vuol dire le ferite alle mani e le ferite ai piedi, vedremo, ritroveremo questo in Matteo, qui nel Vangelo di Luca troviamo molti aspetti che ritroviamo in, no in Matteo, scusate, in Giovanni, no? Toccatemi e guardate, un fantasma non ha carne e ossa come vedete che ho io, quindi si presenta in carne ed ossa con i segni però della passione e dice ma guardate non sono un fantasma, sono vivo, sono reale, dicendo questo mostrò loro le mani e i piedi, esattamente quello che farà con Tommaso nel Vangelo di Giovanni, ma poi chi per la gioia non credevano ancora, cioè era troppo grande, no? La notizia, non riuscivano a credere, no? Ma questa volta non credevano perché era troppo bello, no? ed erano pieni di stupore e disse avete qualcosa da mangiare? Oh, un'altra cosa molto importante, qui in Luca come in Giovanni il Gesù risultato mangia con l'oglio, gli offrirono una porzione di pesce arrostito e gli lo prese e lo mangiò davanti a loro, vedremo che mangeranno anche con, in Giovanni mangeranno pesce arrostito, poi disse sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con voi, bisogna che compiano tutte le cose scritte di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi e qui sono le tre parti con cui gli ebrei dividevano la Bibbia, la Torah, i Nebim e i Ketubim, i profeti e gli altri scritti, quindi bisognava che ecco, tutto quello che è scritto nell'Antico Testamento si fosse compiuto, allora aprì la loro mente per comprendere le scritture, vedete, è un cammino di comprensione, una meditazione, finalmente li porta ad aprire la mente e disse loro così sta scritto il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati cominciando da Gerusalemme o mentre in Matteo e anche in Marco andate e predicate qui si dice nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli perché? Perché subito dopo Luca nella sua seconda parte descriverà come questo gruppo di persone che sono arrivate a credere e a sperimentare Gesù risorto porterà presso tutti i popoli il messaggio di Gesù quindi lo descriverà di questo voi siete testimoni ed ecco io mando su di voi colui che il padre mio ha promesso ma voi restate in città finché non siate rivestiti di potenza dall'alto cioè qui ecco Luca fa premettere i discepoli gli apostoli cominciano a predicare non semplicemente dopo che sono arrivati alla fede nella Ressurrezione ma dopo la discesa dello Spirito Santo la Pentecoste che chiude questo periodo di preparazione di scoperta di convinzione di conversione quindi esco io vi mando però prima dovete aspettare l'arrivo dello Spirito e in effetti qui finisce il Vangelo poi li condusse fuori verso Betania e alzate le mani li benedisse mentre li benediceva si staccò da loro e veniva portato su in cielo ed essi si processarono davanti a lui poi tornarono a Gerusalemme con grande gioia e stavano sempre nel tempio lodando Dio vi dicevo che con Matteo e con Luca Gesù non sale in cielo Gesù resta con loro io sarò con voi fino alla fine del mondo Luca descrive le cose in maniera un pochino più teatrale in un senso più teatrale il Gesù sale il Gesù risorto sale al cielo ma manda il suo spirito e il suo spirito sarà sempre con loro quindi in definitiva siamo alle cioè è solo un modo diverso di dire le cose concludo dicendo il libro degli atti degli apostoli quello che viene dopo la seconda parte dell'opera letteraria di Luca ripartirà da qui e descriverà la rinascita del movimento di Gesù che a partire da Gerusalemme arriverà fino ai confini del mondo come era percepito allora dalla palestina Roma ecco vedete che qui abbiamo concluso questo percorso di Luca un po' più lungo dell'altro e vedete che è una scoperta lenta e meditata cioè ci si arriva pian piano non è semplicemente che appare e vedi oddio no no ci si arriva pian piano prima l'annuncio della parola di qualcuno che te lo annuncia e poi tu ti ricordi ciò che lui un percorso ciò che si è vissuto insieme con lui e poi si arriva pian piano al meditare le scritture poi ci arriva la fede piena e poi quando si arriva la fede piena si è pronti ma prima di essere veramente pronti per partire e rifondare il movimento bisogna ricevere la forza dall'alto lo spirito che in Marco e in Matteo e anche in Giovanni sarà io sono con voi io agisco con voi ecco lo spirito in Luca c'è questo aspetto un po' più teatrale in cui il risorto sale al cielo e poi scende lo spirito la Pentecoste bene con questo io vi saluto per questa terza lezione e ci resta ci resta l'ultima tappa il Vangelo di Giovanni e lì vedremo alcuni contatti tra il Vangelo di Luca e il Vangelo di Giovanni sono molto interessanti no? alcuni contatti più degli altri due bene buona giornata buon proseguimento e ci vediamo la prossima oltre e ci vediamo